ciao ragazzi bentornati sul mio canale youtube oggi per farmi perdonare dell'assenza che c'è stata perché tra un viaggio in altro non vi ho portato contenuti con costanza qui sul tubo vi porto un modulo con delle tattiche e istruzioni che hanno svoltato durante la scorsa giornata di serie a team un modulo che secondo me si è masterato veramente un'arma letale sia in attacco che in difesa che sto provando ho provato e credo che continuano utilizzare fino alla fine dell'anno perché veramente è qualcosa di sorprendente senza perdere altro tempo andiamo subito a vedere di che formazione sto parlando il modulo in questione è il 5 4 1 ebbene sì un altro modulo con la difesa 5 che torna prepotentemente sulla scena dopo il famoso 5 3 2 di fifa 21 però questo modulo qua è un modulo che ha delle caratteristiche particolari e infatti prima di andare a vedere tattiche istruzioni eccetera voglio analizzarlo per bene con voi per vedere quali sono i ruoli chiave e quali sono i giocatori che vanno inseriti nei determinati ruoli allora voi potreste dire a di prima battuta eccoci qua quindi questo è il modulo per difendere le partite invece assolutamente il contrario perché questa formazione qui con i dovuti accorgimenti è perfetta per iniziare la partita e portarla fino alla fine proprio così con il 5 4 1 senza fare troppi cambiamenti perché è una formazione che difensivamente è molto compatta e quando poi andiamo ad attaccare diventa totalmente cangiante perché vi lascio immaginare i terzini vanno a supportare la manovra e quindi è come se virtualmente stessimo attaccando con sette giocatori perché vanno ad aggiungersi ai 4 di centrocampo e alla punta veniamo ad analizzare per bene i ruoli chiaramente il mio consiglio è quello di non costruire una squadra appositamente per il 5 4 1 ma come al solito avere una squadra che sia abbastanza trasformabile per cui se voi partite magari con un classico 4 3 2 1 4 4 2 siete comunque in grado di poter passare anche al 5 4 1 quindi ad esempio il terzo che si viene ad aggiungere difensore centrale può tranquillamente essere uno dei vostri centrocampisti come nel mio caso vado ad aggiungere come difensore centrale via ira quindi questo si sposa alla perfezione in questa occasione qui ovviamente voi ci potete andare a mettere anche un fofanà un zaccaria giocatori di questo tipo i due terzini sono fondamentali perché devono essere due giocatori entrambi in grado di saper trattare il pallone ed entrambi ovviamente molto 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 veloci quindi da un lato io walker 89 dall'altro c'ho cap de vila quello marvel il secondo la fortuna di averlo trovato uno scambiabile l'altro l'ho comprato vale tutti i crediti perché è un demonio e loro due anche quando si ritrovano poi davanti spingono tanto due passaggi li sanno fare quando si tratta magari dover finalizzare il tiro lo riescono anche ad indovinare i due centrocampisti ovviamente anche qua dovete essere bravi a interpretare perché uno sarà ovviamente un centrocampista l'altro io ci adatto messi che non è l'uomo ideale in questo caso qui magari io avrei preferito mettere più una low wire run e messi esterno però messi visto che la versione 94 non è velocissimo e quindi ho detto vabbè mi arrangio metto dei bruine e messi messi lo gioco alla cantè tra 1850 virgolette e vediamo che ne viene fuori i due esterni fondamentale che siano delle frecce e oltre a questo devono essere molto tecnici gradita la 5 skill e devono avere almeno 4 di piede debole perché quando si tratta di finalizzare devono essere imprevedibili sia di sinistro che di destro la punta manco a dirvelo il solito meglio sia la quinta skill minimo 4 piede debole e deve essere un giocatore tremendamente rapido in questo caso uno alla aland che ti fa reparto da solo alla ibra eccetera ancora meglio perché magari potete fare un bello spiovente sulla punta che si appoggia poi sugli esterni che arrivano sui centrocampisti sponda e andate in porta quindi questo per quanto riguarda la conformazione dei giocatori che noi andiamo a inserire in questa squadra qua veniamo alle tattiche e sulle tattiche iniziano le chicche non rabbrividite perché come potete vedere partendo dalla difesa abbiamo equilibrato come stile ampiezza 1 e profondità 69 qua mi direte ma sei impazzito a mettere ampiezza 1 ma mi vanno a penetrare da tutte le parti sulle fasce nì nel senso che se voi siete un minimo bravi a switcharvi i terzini quando vi aggrediscono o a portarvi dietro l'esterno voi le fasce non le soffrite minimamente e se siete bravi a far schiacciare la linea defensiva quando vi attaccano soprattutto per vie centrali ragazzi non vi entrano ma non vi entrano o fate voi un errore o vi fa proprio l'avversario una gran giocata altrimenti voi lì davanti andate ad alzare un bel muretto e da lì è difficile andare a scalfire la vostra area di rigore perché i giocatori si compattano che è una bellezza l'avversario deve essere molto paziente allargare e cercare di aprirvi ma vi ripeto non è sempre scontato profondità 69 per far sì che evitiamo di spammare trappole del fuorigioco in automatico e quindi che si vada a disunire la nostra linea senza che noi lo vogliamo e passiamo all'attacco dove abbiamo costruzione in equilibrato e creazioni occasioni con passaggi diretti e ampiezza ebbene sì anche qua uno perché uno perché questo 5 4 1 è un modulo tremendamente largo se voi tenete questi giocatori aperti aumentando l'ampiezza vi viene difficile trovare quegli scambi veloci quegli 1 2 tanto alla fine vi arrivano sempre gli esterni terzini larghi sui quali voi potete comunque dar la palla perché non è che il terzino voi ritrovate al centro il terzino sta sempre là l'esterno sta sempre là però sono compatti quando si tratta di attaccare cercano di aggredire per via centrale quindi anche qua potete fare cross potete fare cambi di gioco eccetera perché viene tutto naturale ma questo vi facilita un sacco la vita quando si tratta di dover trovare l'uomo libero giocatori in area 6 o 5 quindi un parametro che non sia eccessivo per non far scappare troppo i giocatori angoli e punizioni 1 1 al solito veniamo alle istruzioni e passiamo subito sul portiere perché qui abbiamo uscita sui cross e portiere fuori dai pali quindi lo tocchiamo proprio per evitare che ci vengono a dar fastidio coi cross oppure anche in contropiede il portiere diventa quasi un libero per quanto riguarda i tre difensori centrali invece tranquillamente predefiniti quindi resta dietro in attacco sui due terzini abbiamo resta dietro in attacco e sovrapponiti attenzione perché sui terzini appena inizia la partita dovete fare freccetta all'insù e freccetta a sinistra per attivare terzini offensivi fondamentale altrimenti questo modulo vi muore in mano perché diventa poi difficilissimo attaccare perché avete due reparti scollegati 5 4 lì davanti alla difesa e poi la punta che fanno fatica ad avere il raccordo quindi resta dietro sovrapponiti ma con terzini offensivi terzini offensivi che poi potete togliere quando state magari in vantaggio per gestire se non volete scoprirvi e ricordatevi anche di portare magari dei cambi per i vostri terzini perché faranno tanta fatica a reggere soprattutto 120 minuti sui due centrocampisti in maniera speculare resta dietro in attacco resta al limite per il cross e copri al centro per far sì che quando noi andiamo ad impostare la nostra azione si mettono proprio al limite e diventano poi loro che vanno ad imbucare le nostre punte i nostri esterni che arrivano i terzini che si allargano sono i nostri due riferimenti centrali che possono poi anche concludere lì dal limite sumbappe e alowairan quindi i due esterni andiamo a mettere rientra in difesa taglia dentro ed inserisci alle spalle questo perché in difesa verranno a dare un'ulteriore mano con i terzini che magari possono stringere ancora di più e i nostri ali che diventano terzini a loro volta a compattare la nostra linea su tutto il campo per quello vi dico quell'uno di ampiezza non lo sentite se siete bravi e poi sulla punta andiamo a mettere le mani centrali inserisci dalle spalle e rientra in difesa il rientra in difesa sulla punta potete anche toglierlo e gestirvelo con le freccette anche quando andano ad attivare il ripiegamento attaccante però io di solito lo utilizzo perché così venendo la punta al centrocampo quando recupero la palla c'ho subito lì il mio pivot che poi smista il pallone sinistra e destra e mi permette di poter fare le mie ripartenze quindi ricapitolando fondamentali l'uno di ampiezza sia in attacco che in difesa fondamentale non vi dimenticate per nessun motivo appena inizia la partita freccetta su freccetta a sinistra per mettere i terzini offensivi quindi questo è per quanto riguarda come lo andiamo a schierare in campo queste sono le tattiche queste sono le istruzioni alla fine è una invece di difesa 3 perché in fase di non possesso appunto attacchiamo con una difesa 3 però essendo di partenza una una difesa 5 siamo molto più coperti quando perdiamo il pallone perché non devono andare a ritornare giocatori offensivi a comporre la linea difensiva ma se non sono partiti li abbiamo già lì messi pronti a difendere raga per questo video è tutto fatemi sapere nei commenti se magari questo modulo avevate visto già su instagram perché lo avevo già portato lì in collaborazione con il buon sales andrea che l'ha portato alla i serie a team dove ha fatto il devasto vi invito ad andarlo a seguire trovate appunto sul mio instagram il posto in collaborazione con lui e quindi potete seguire anche lui detto questo mi raccomando come al solito sono live tutti i giorni sulla piattaforma viola dove ci stiamo anche provando proprio questo modulo qua a me non resta altro che augurarvi una buona giornata al saluto ai vostri peroschi ciao